ciao sono arisi dell'app e benvenuto su macraris questo video è per tutti quelli che usano le funzioni di excel in tante lingue si tratta del traduttore di funzioni di excel disponibili oltre per queste versioni qui segnalate anche per excel 2013 è un applicativo che desideravo avere da tanto tempo ed ora sono davvero felice perché mi semplifica parecchio la vita su questo sito trovi tutte le informazioni su come funziona questo applicativo e come configurarlo in excel proprio l'obiettivo di questo video è di farti vedere velocemente come farlo vai in excel vai nello store dove puoi trovare tanti applicativi per aumentare la tua produttività in excel nella barra di ricerca inserisci in inglese functions translator questa clicchi sulla barra di sull'icona di ricerca e su functions translator clicchi su aggiungi dopo qualche istante viene installato l'applicativo traduttore di funzioni in excel un applicativo davvero fantastico clicco qui su ok vado su riferimento e mi si apre questo traduttore di funzioni con cui tutte le funzioni dall'inglese all'italiano e qui puoi scegliere la categoria che desideri avere per avere la corrispondente traduzione nella lingua di tua scelta se vuoi cambiare l'importazione di lingua vai in preferenze clicchi e qui puoi cambiare le lingue da usare clicco qui per tornare indietro altro altra funzionalità interessante è il dizionario nel dizionario mi viene in mente per esempio vlookup non so come si dice in italiano qui scoro la ricerca e dinamica non ti serve neanche cliccare su invio e hai qui cerca.vert davvero interessante questo è davvero un applicativo molto ma molto interessante che ti permette di risparmiare tempo per ultimo traduttore qui simula l'ambiente in inglese e in italiano inserisco la mia funzione come se fossi in excel in inglese somma ad esempio 1 2 per semplicità qui sotto scoro vado sulla freccia verso il basso traduttore della formula dall'inglese all'italiano e qui ho la mia funzione tradotta con virgola che è stato cambiando cambiato in punto virgola questo davvero fantastico meravigliato da questo applicativo che ora mi fa risparmiare parecchio tempo se ti è piaciuto questo video lasciami un commento oppure un pollice in su e a presto per altri video su macraris grazie a tutti grazie a tutti